Sarà ancora un ferragosto di super lavoro per la nostra emittente impegnata nell'importante produzione della diretta televisiva del 78esimo Palio Marinaro dell'Argentario a Porto Santo Stefano. Una manifestazione che ogni anno attrae nella costa d'Argento migliaia e migliaia di persone, ma coloro che non hanno la fortuna di ammirare la gara dal vivo, dal piazzale dei Rioni o lungomare, potranno farlo grazie alla diretta della nostra emittente realizzata in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Monte Argentario. Nel sito del comune ci sarà infatti la diretta streaming di tutta la gara. I quattro Rioni, Fortezza, Pilarella, Valle e Croce si daranno battaglia nello Stadio del Turchese giovedì 15 agosto a cominciare dalle 19 circa, quest'anno con i guzzi interamente restaurati per la prima volta dopo 46 anni. La nostra emittente sarà in diretta dalle 15 nel canale 214 di Arezzo TV e 89 di Di Lucca per il Digitale Terrestre. Arezzo TV sarà seguibile anche in diretta streaming sul sito www.arezzotv.net. Ma le bellissime immagini di Porto Santo Stefano arriveranno attraverso la nostra diretta in tutto il mondo, anche grazie alla diretta satellitare che sarà trasmessa dalle 15 alle 21 nel canale 839 del Bucquet di Sky in chiaro. Insomma, passare il Ferragosto in compagnia di Arezzo TV non vi farà certo annoiare e tra una fetta di anguria e un gavettone noi vi aspettiamo per la diretta del 78esimo Palio Marinaro dell'Argentario.